stiamo per aprire modello di iphone l'iphone x xr precisare come si apre l'ho scassato mezz'anno da confezione il tempo di aprirlo ragazzi poi togliendo la pellicola del telefono ok appoggiamo il nostro iphone eccolo wow aspettate questo momento è prezioso ok continuiamo la nostra apertura esattamente qui non vorrei sporcare già la mela dell'apple mi piace da morire qua dietro oddio ragazzi oddio ragazzi stiamo a spetticolare che bello ecco ragazzi stiamo per accenderlo momento di lutto adesso appiccino sembrava più lunga la lente raga eccolo che bello vabbè raga questo video si conclude qua ciao ecco ecco